come state? io benissimo peso 200 kg in più e scommetto che anche voi peserete così tanto quindi vi aspettiamo con l'Ozzetto in live sul suo canale per farci due chiacchiere, per salvare il Natale potremmo fare un film Lindy Bang salva Natale o la Corea se non si aggiunge Mac all'ultimo, e quindi dai fate un salto, vi aspettiamo posso registrare dei video brevissimi perché sono in un posto con una linea scarsissima quindi correte sul canale dell'Ozzetto, ci vediamo tra poco in live ciao belli come si stacca sta merda